ecco qui non c'è bisogno dello scontrino vero veramente va bene non importa e come è solo uno scontrino da pochi centesimi non è questione di quanto vale lo sai cosa significa quando ti chiedono se vuoi o meno lo scontrino una ricevuta fiscale che ti chiedono un piacere ti chiedono di aiutarli a evadere le tasse e diventare loro complice hai ragione è sbagliato ma è solo un panino ricco il principio è lo stesso lui si arricchisce a spese della collettività e i soldi che in tasca evadendo le tasse sono anche tuoi miei certo come credi che vengono pagati i servizi pubblici gli ospedali le scuole e questo bel giardino con quali soldi vengono pagati i giardinieri per curarlo con le imposte che diamo allo stato bravo che ritornano a noi in tutti questi servizi ma se preferisci darle a lui fa pure signore lo scontrino prego certo certo figuriamoci stavo scherzando non voglio guai cosa che non mi torna fa affidamento sul tuo istinto di grifone è la tua prima risorsa fine della pausa pranzo ma se non ho nemmeno cominciato una mascotte è sempre in servizio mangerai dopo mi è venuto un sospetto il mio istinto da grifone ha iniziato a soleticarmi appena l'ho visto l'istinto da grifone questa è nuova e che dice adesso che scendiamo giù a dare un'occhiata ha lasciato aperto significa che vuole tornare dobbiamo fare in fretta presto e se il tuo istinto ci fa sorprendere da quel tipo qui finisce male che significa nella lingua dei grifoni è una cosa bella o brutta significa che non mi sbagliavo guarda un po cosa devo guardare sono giocattoli evidentemente oltre ai panini il tipo vende giocattoli che c'è di male ma quale materia studia l'accademia pisolini applicati guarda bene manca qualsiasi indicazione d'origine del prodotto e non vedo nemmeno il marchio c e questo significa che sono giocattoli contraffatti e probabilmente anche pericolosi dobbiamo sta arrivando qualcuno filiano vado a vederla due volte troppo tardi siamo in trappola nella cassa presto ho avvertito la base presto arriverà qualcuno ad aiutarci ora dobbiamo solo stare zitti giusto è che c'è troppa polvere e io sono allergico ti prego non esce me lo sono sognato quella cassa appena starnutito lo scopriamo subito non c'è via di scappo stavolta siamo davvero nei guai tranquillo dobbiamo solo guadagnare tempo ci vuole un diversivo avevi ragione quei giocattoli sono davvero pericolosi non pensavo fino a questo punto ancora voi due ficcanaso prima lo scontrino ora questo ma stavolta ve la faccio pagare giusto qualcuno la pagherà ma non saranno loro signore lei è in arresto finzi la prossima volta che pranziamo insieme sì fermiamoci alla mensa dell'accademia